Ma Teresa si lascia anche ispirare dal suo marito, Raffaele, Raffaele Ostuni. Percorsi, anni di crescita nei percorsi segnati, dai giorni vissuti e ancora da vivere. Radice robusta dell'albero di famiglia, sostieni il peso degli anni che scorrono. Florido il ramo, da cui nacquero i boccioli, teneri germogli, i nostri amati figli. Compagno di vita, nel bene e nel male, puniti dal fato, diversi da sempre, ma uguali nel cuore. Bellissimo, l'ho appena scritta.